benvenuti a patchwork io sono valentina e adesso vi mostrerò come in poche semplici mosse si può realizzare un portaposate in feltro allora per realizzare il nostro portaposate abbiamo bisogno di un di un disegno scaricabile da internet oppure disegnato a mano in questo caso io ho scelto un coniglietto visto che ci stiamo avvicinando alla pasqua lo ritagliamo questo è il coniglietto tagliato adesso lo poggiamo sul feltro lo riportiamo di nuovo sulla stoffa preferibilmente usare la penna perché la matita va via più facilmente quindi non si riescono a vedere bene i bordi una volta disegnato tutto lo si ritaglia di nuovo questo è il nostro coniglietto finito adesso abbiamo bisogno di fare di fare delle fessure qui per poterci infilare le posate per fare questo passaggio abbiamo bisogno di un pezzo di polistirolo o di legno di compensato qualcosa che che sia abbastanza rigido da non rovinare il tavolo sotto e fare le due fessure in questo modo queste sono le fessure per lì per inserire le posate adesso dovremmo abbellirlo e per abbellirlo potremmo mettere un nastrino di questi colori delle paillettes in base ai propri gusti si può scegliere io ho scelto di mettere questo nastrino piegare la prima parte del nastrino girare attorno quell'altro pezzetto passarlo attraverso il buchetto e tirare le estremità ed ecco il nostro fiocco adesso passiamo ad aggiustarlo come più ci piace in questo modo tagliamo i pezzetti in più e creiamo una forma che ci piace applichiamolo poi dove andrebbero messe le posate ecco qui questo è il nostro portaposate finito vi aspetto la prossima puntata dove vi farò vedere qualcosa di altrettanto carino ciao applichiamolo applichiamolo